Salve! Oggi vi presentiamo la vaporiera Russell Hobbs 19270-56. All'interno della scatola troviamo il manuale delle istruzioni, chiaro e semplice. È la vaporiera, composta da una base in acciaio inox e tre vaschette impilabili, facili da assemblare e lavabili in lavastoviglie. Con una capacità massima di 9 litri e potenza di 800 watt, si dà la possibilità di cuocere in contemporanea più cibi. È adatta alla cottura di qualsiasi verdura, ma anche di riso, uova e qualsiasi altro alimento cucinabile al vapore. Per azionarla è sufficiente riempire la base d'acqua, collegarla alla corrente e impostare il timer in dotazione che arriva fino a 60 minuti. Terminata la cottura, il timer ci avviserà con un suono. Per la recensione completa sul prodotto seguite il link nella descrizione e ricordatevi di visitare